Lui, un applauso, Lamberto Giorgi! Gli anni, anni 60 partiti, anni 70 partiti, anni 80 partiti, allora vi posso dire, alzi la mano, chi come lei è nato negli anni 90! Grazie veramente, vi posso dire una cosa? Stai passando una serata meravigliosa, vi ripeto, per me non c'è solo Roma, Lazio, Calcio, Teleroma, per me c'è la musica anche nella vita, e la musica qua questa sera è veramente fantastica. Ti entra nell'anima, io vi dico la verità, sono arrivato, che non ero di buon'ore perché succede, oggi pomeriggio mi hanno fatto un po' sarcele, mi hanno fatto un po' di scatole, e ti mangiare di buon'ore. Beh ragazzi, sono venuto qua qui stasera, vedo, sento la musica, poi la musica vera, quella bella, quella che ti entra nell'anima, nel cuore, la musica degli anni 70, 80, beh insomma, vai! Poi vedo, vedo qua l'esibizione, lo spettacolo di Paolo, che è unico, io non ho mai visto qualche cosa da genere nella mia vita, insomma, ma cambiamo la vita, questa sera, questa serata, questa musica, Paolo, mi hanno cambiato la vita. Veramente, questa sera sono un uomo felice, grazie dell'amberto Giorgi, viva la musica, e mi raccomando nella vita, fate sempre il gol, segnate sempre un gol più nell'avversario. Bella, mi sembra di buon'ore, questa musica, hai preparato un pezzo di Masini dopo? Che bella bella ragazzi, io la valutino. Un applauso, ce l'abbiamo solo noi, avete adesso capito perché? L'avvento Giorgi! Grazie con tutto il cuore, seguite sempre il calcio, seguite il terremoto 56, insieme a tutto, divertitevi sempre con Paolo, grazie, buonanotte, che bella serata, mamma mia, ben pazzile, ciao, grazie. Grazie, grazie che sei stato di pazienti.